BASTA! Oh DIA! Ciao amici siamo METTE BISE! METTE BISE! Siamo ben ritrovati oggi con un nuovo video estivo sul canale Bene si ragazzi oggi faremo la challenge storica La Chappi Bunny Challenge Insieme ai Mates! Non sapete che i Mates non hanno mai fatto la Chappi Bunny Challenge? Esatto, come l'abbiamo fatto? Non singolarmente ma non come Mates Per chi forse non conosce questa challenge Ma no, ma no, non la si legare Non la seguiamo, la facciamo Facile Ricordatevi di mettere un piccolo like Poi mettete di like e noi facciamo altri video Ma anche un grande like Stefano Surreal Power Vegas MET MET Non ci avrò mai Chappi Bunny Voi nei commenti ovviamente siete partecipi di questo video Iniziamo! Vai via! È vero ma è uno Uno Ma no, deve dire Chappi Bunny Ogni volta che lo mettiamo al canale devi dire Chappi Bunny Inizia vai Conatino Suri lo chiameremo Chappi Bunny Uno Tu sei bravo con i babà? Io non sono bravo a Uè ma bella Eee ma bella Faccio con calma Quindi Sì vabbè ciao Uno Perché mi sta bevendo addosso? Eh perché crediamo tutti in te La velocità è chiave Due La velocità è chiara Due Vedi di velocizzare Chappi Bunny Chappi Bunny Chappi Bunny Chappi Bunny Chappi Bunny Lo vedo già in difiù Lo vedo già in difiù Non è uno scherzo Guarda Mettili qua Dalli quello Ciao Vivanni È questo Ciao Vivanni Sei Bravo Io devo aiutarlo Ciao Vivanni Ah ok Ciao Vivanni Nove Ma non era nove raga Era quattro Nove No questo è sette Questo è il decimo No è sette Sfutoli e contiamoli No dai quant'è ragazzi Sfutoli e contiamoli No dai Questo mi sa che è l'ottavo Così a bozzo Ciao Vivanni Nove E questo è il decimo Ciao Vivanni Ah dieci 10 Ciao Vivanni Sei Qual è il record italiano di Youtube? Non lo so Ma dovremmo provare a farlo Se mai di Youtube anch'io Ciao Vivanni Sette Ma lui ingurgita Ciao Vivanni Otto Lo vedo in difficoltà C'è un bel pollo rinforzante Ciao Vivanni Nove Questo è il quinto Questo è il quinto No Dillo Cinque Dai il sei almeno Dai il sei almeno Oltre i gesti Cos'è il racino Tutti che fai innamorare Vedi che poca bello caffè Nove nove ciabipanni ragazzi Con la ricetta dei cicerinella Con bagneticella già data mamma Dieci ciabipanni Cioè attenzione perché nessuno se l'ha aspettato Questa è questo Undici ciabipanni ragazzi Ma non lo sta dicendo Oh Sette Ragazzi mi sta venendo la cagarella Quanti doni Otto Otto Quanti doni Nove Ha riempito solo la guancia destra Quanti doni Dieci No devi velocizzare Metti se non ce la fai Lo vedo in difficoltà Quanti doni Sette Ragazzi chi vuole sul canale una sfida tra me e Sasha Proprio A cibo A cosa ci possiamo ammazzare A pizza A Buster A Buster io sono bravo Vediamo se Stefano arriverà a dieci 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 Stefano imperterrito non si ferma Undicesimo È insonorizzato Vediamo vediamo Dodici L'ha detto Dodici L'ha detto Ok aspetta ferma No 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 Così No Espulsione automatica Potevi arrivare a quindici Stefano Quattordici Ciabbi Banni Stefano è arrivato a quattordici Tu a cinque Dai Sette la metà di Stefano Dai Dai Surry Sei Bravo Ancora uno almeno Dai 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 Sette Otto No Sette Sette e mezzo 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 Per Surry Surry Dodici Ciabbi Banni Stefano Dice anche la parola Tredici Tredici Tre psicologico Sapendo che io sono a quattro Vai Varietà Varietà Aspetta Non No no Devi dirlo Non lo dice Record Record L'ha detto Quindici Io non ho sentito L'ha detto L'ha detto Raga Undici Comprimi con la lingua Comprimi con la lingua Vai a sinistra Dodici Tredici Dai che schifo Tranquillo Family Friendly Aspetta Rimani così Rimani così No 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 Tu sono di merda E molti si stanno confiando i marshmallow di Mike Calma calma È stato un errore Visa vieni qua Che volta mi sto cagando addosso Siamo per superare l'ultimo in classifica Tredici Tredici Ok Surry Arriva nell'ultimo Poi facciamo la classifica Quindi un'altra penitenza Quindi sono venuto Tredici 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 io se questo momento signori il record ce l'ha papà vegas ma perché vuoi levarmi di javibani vai insieme questo è 16 ma anche 17esimo per me dillo dillo metti dillo ti prego ok va bene 17 vediamo attenzione il record 19 19 18 19 l'ha detto è arrivata 18 c'è il nuovo a 19 trezzo 19 19 13 ma sta facendo uno spazio al centro guarda 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 14 14 attenzione uno io non l'ho sentito io non l'ho sentito a espulsione automatica 3 2 1 qui vise arriva quota 15 amici e la casimica potrebbe ancora cambiare 15 anni 16 bebe be 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 inizia a no no 16 è ancora molto nitido ma secondo me stanno un po' parando anche secondo me siamo stati attenti una volta è in video è in video va be del montaggio stesso che hai varato ti cancello il canale 18 vuole arrivare al 20 vuole arrivare a 20 Venti, venti, sputa, ti prego, non ce la fai più, basta, 20 va bene, oddio, 21, 21, vomita, ti prego, no, ti ammazzi, come no? Trova le donne, 19, 20, e adesso li sputti e li contiamo, 21, ti ammazzi, ma non vomitare sugli altri buoni, Che bocca è, ragazzi, non ci stanno più, non puoi, ma li stai spappolando, ma sono distrutti, che schifo, non metti più la vomit, 22, 22, 22, 22, vabbè, ormai stanno buono, scuta, ti prego, ho fatto 22, non lì, qua, dollì, dillo, se lo supera di tanto, va bene anche, è a 22, ragazzi, mi sta putta, vai, puttani altri dentro, così siamo sicuri che il montaggio, che uomo ragazzi, attenzione, 24, che uomo, 24 chubby bunny Signori e signori Folettine, folettine 25 Quanti sono? 3 3 Per arrivare a 25 3 volte chubby bunny Vediamo Non entra, non metto 22 22 22 Secondo me è il record di YouTube Che schifo Grazie a tutti Questi arriva a 28 Questi sono 28 28 No Ok Allora ragazzi Dice 28 Quello che pensavamo noi Ma nel montaggio forse si vedrà Ma secondo me Signori e signore L'ultimo posto con il numero 7 Salvatore 5 grana Detto Surry Surry al power Detto l'uomo nudo che corre con le angurie Esatto Al penultimo posto Con 14 Con 14 Stefano Lepri Alias Steppi Abbiamo giocato insieme come se fossimo arrivati i primi È come se fossimo Stefano come se fossimo L'ha presa sul personale Come abbiamo vinto insieme Vabbè ragazzi Vince per questo video Sascha Lasciate un like ragazzi Per un nuovo video Commentate i video E noi ci vediamo Alla prossima Ciao ragazzi Ci vediamo al prossimo video estivo Ciao Ciao Deletatis Ci sta Deletatis Fa Campione Ciao Vabbè quello lì Qual cosa si può fare Il campione Chi è il terzo La boccavalaga Ok